Dunque partiamo subito dal presupposto che ovviamente leve deragliatore posteriore e deragliatore anteriore tra Shimano e SRAM non c'è compatibilità, ovvero non potrò mai mischiare leve e Shimano con cambio posteriore SRAM. Questo non si poteva fare neanche quando c'erano le trasmissioni a filo, figuratevi se SRAM e Shimano avessero fatto un unico linguaggio per i loro componenti. Ovviamente non è così, quindi oggi vi spiegherò soltanto se c'è compatibilità tra cassetta SRAM e cambio Shimano. Quindi se possiamo usare un cambio Shimano, una guarnitura Shimano, una catena Shimano con un pacco pignoni SRAM. Vediamo se è possibile. Cominciamo. Piccolo preambolo, perché dovrei mischiare un pacco pignoni SRAM 12 velocità, che sto parlando adesso di 12 velocità, con una trasmissione Shimano, quindi con un cambio Shimano, una guarnitura Shimano? Beh, la domanda secondo me è lecita, perché la risposta è molto semplice. Dato che pacco pignoni SRAM e pacco pignoni Shimano richiedono un corpetto differente, può capitare magari di trovarsi ad acquistare una coppia di ruote nuova, ma magari anche usata, con corpetto per cassetta SRAM mentre abbiamo un cambio Shimano. Beh, invece di mettersi a cercare il corpetto giusto Shimano per quelle ruote, magari quelle ruote che ci vendono hanno già una cassetta SRAM, magari per evitare un passaggio in più, uno spreco di soldi aggiuntivo, potrebbe essere molto utile usare un cambio, come in questo caso Shimano 2 Race, con una cassetta, come in questo caso, SRAM Red. Quindi, capite che è una domanda lecita, io me l'ero già posta e finalmente, poi vi spiego anche alla fine del video perché ho fatto questa cosa, finalmente ho avuto la possibilità di testarlo. Vi dico subito che all'inizio non ci ero riuscito a far funzionare questo cambio 2 Race 12 velocità, con questo pacco pignoni SRAM 10-28. Non ci ero riuscito, ci avevo fatto comunque un paio di uscite, ma su alcuni rapporti cambiava male, faceva fatica sia a salire che a scendere, quindi non era un fatto di registrazione, e quindi avevo un po' desistito nell'utilizzarlo. Poi ho avuto la brillante idea di provare a sostituire la catena, avevo una SRAM Red usata, buttata da una parte, l'ho messa sotto e devo dire che con la catena SRAM Red sono riuscito a registrarlo a puntino. Funziona perfettamente, è leggermente più rumoroso rispetto ad un pacco pignoni 2 Race 11-30, ma veramente pochissimo quando si è in sella, la differenza si nota poco, e comunque SRAM è proprio più rumoroso di serie, definiamolo così rispetto a Shimano, quindi ci faccio poco caso. Quindi catena Red, pacco pignoni Red, cambio 2 Race, funziona alla perfezione. Non so se magari giocando con la lunghezza della catena, la catena 2 Race sarei riuscito a farlo funzionare ugualmente, non ve lo so dire, però vi dico che questa combinazione funziona perfettamente. Non ho provato altri pacchi pignoni con altre tentature, ma sono sicuro che come funziona questo funzionerebbe sicuramente anche un 10-30, un 10-33. Vi dico sicuramente perché questo era quello che secondo me avrebbe avuto più criticità, anche perché il 2 Race è pensato da pacchi pignoni da 30 tenti in su, come pignone grande, quindi questo ne va a 28 e ci stava che poteva avere un po' di fastidio in più. Quindi sicuramente con combinazioni con tentature maggiori, 30-33, sicuramente funzionerà ugualmente bene, se non addirittura meglio. Per finire vi dico perché ho fatto questa accoppiata, come potete vedere i più attenti di voi vedranno che ho una coppia di spada Taiwan sotto a questa bici, le sto usando da qualche giorno. Queste ruote purtroppo avevano un corpetto stram, quindi come vi ho detto all'inizio, è una cosa che può capitare. Dato che non avevo tempo di ordinare un corpetto Shimano, non avevo neanche voglia, avevo questo pacco pignoni di stram red, e la dico perché no? Vediamo se funziona, e come vi ho già raccontato, alla fine sono riuscito a far tornare tutto, domani ci vado anche a correre, domani è domenica, probabilmente voi questo video lo vedrete un'altra volta. Vi dico che lo proverò anche in gara, quindi sono super fiducioso che vada tutto bene, incrociamo le dita, piccolo salto in avanti, confermo che è andato tutto benissimo anche in gara, anche su strade veramente malmesse, non ho avuto problemi né di cambiata, né di incroci, né di ritenuta della catena da parte della corona, quindi compatibilità confermata. E posso anche dirvi che con questa soluzione ho risparmiato ben 50 grammi solamente di cassetta, infatti Dureis 1130 pesa 50 grammi di più di stram red 1028, veramente una bella differenza di peso. Posso anche dirvi che 10-52 è veramente duro, cioè è un rapporto da professionisti puri, perché chi ha stram come dotazione più di 52 davanti non mette, parlo mondo professionisti. Quindi per un amatore è veramente tanto, per sfruttarlo bisogna andare sopra i 60 all'ora, ma sopra i 60 all'ora in discesa non si vedano in pianura magari a riuscire ad andarci, quindi è una combinazione estrema. Poi il 28 con un 36 davanti, ormai mi ero abituato al 30, quindi è anche un pochino troppo duro, è una combinazione temporanea che sicuramente cambierò presto, però posso dirvi che funziona. 50-210 magari domani se c'è qualche pezzo veloce lo potrò anche utilizzare, poi ve lo dirò e comunque con un 50-34 e un 10-28 secondo me sarebbe una combinazione speciale che potrebbe anche far risparmiare qualche grammo di peso. Con questo è veramente tutto, fatemi delle domande se volete qua sotto nei commenti, vi ringrazio l'attenzione, vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!